amici e amiche di nerdando.com benvenuti bentornati nelle nostre interviste oggi abbiamo un ospite eccezionale grazie all'intervento del festival di Ravenna visioni fantastiche 2020 che ci ha con noi il maestro Bruno Bozzetto non chiamarmi maestro leviamo maestro è proibito è proibito non si può tutto tranne che maestro tutto tranne che maestro dimmi va bene allora grazie mille di essere qui di essere con noi non servono tante presentazioni quindi no grazie a voi ciao a tutti mi chiamo Bruno ecco per mettere in chiaro le cose mi chiamo Bruno va bene allora dunque noi conosciamo il lavoro di Bruno grazie soprattutto ai cortometraggi ai lungometraggi e negli ultimi vent'anni ormai anche tramite il lavoro sul web di cui parleremo più avanti una carriera iniziata se ricordo bene nel 1958 58 non so come si cosa significhi carriera nel senso che ho iniziato a pasticciare probabilmente anche prima anche nel 56 57 però nel 60 58 59 60 più o meno se si è formato lo studio quindi è quella la data un po più importante un po di anni fa un po di anni fa un po di anni fa primo corto eh tapum la storia delle armi dico bene le armi sì e che abbiamo avuto occasione di rivedere appunto anche in occasione di questo di questo festival perché è disponibile una selezione di corti e io sono rimasto molto colpito li ho rivisti era era un po oggettivamente che non non mi capitava e sono rimasto molto colpito da cavallette e di qualche anno dopo l'ho fatto vedere alle mie figlie messaggio arrivato immediatamente quindi vuol dire che nonostante siano passati anni e generazioni in mezzo il messaggio arriva è chiarissimo e la cosa che invece mi spaventa è che mi sembra che non siamo migliorati molto dall'epoca in quanto a esseri umani che dice quello purtroppo è vero non siamo migliorati e a volte mi spiace di fare delle cose aver fatto delle cose che vedo che poi non solo si sono ribellate giuste ma sono anche peggiorate questo un po mi dà fastidio perché io volevo fare un po dello spirito volevo esagerare un altro film che è abbastanza simbolico è il signor Rossi compra l'automobile quando io ho creato delle esagerazioni pazzesche di questi automobilisti che perdono il senno che si scannano tra di loro mi sembrava di avere fatto il massimo e queste cose si sono avverate si avverano quotidianamente questo mi indristisce devo dire perché cioè speravo che ci fosse qualche miglioramento e credo anche che la caricatura di queste situazioni serva anche proprio a far riflettere alla gente a far ragionare alla gente invece vedo che non c'è non c'è un grande non sono molto ottimista ecco sul futuro dell'uomo guardando queste cose perché mi spaventano ecco giusto del signor Rossi risale al 1960 che è stato un Oscar per il signor Rossi si ricordo bene la sua prima il primo il primo un Oscar per il signor Rossi quando è nato il personaggio ecco il signor Rossi perché non lo sapesse rappresenta l'italiano medio quello che era negli anni 60 ma appunto a quanto pare come dicevo prima non ci siamo particolarmente evoluti cioè siamo ancora lì noi italiani siamo ancora là più o meno sì l'abbiamo visto nel 90 se ricordo bene con un magnifico corto con un altro media che è quello del computer Europa Italia che scherza ancora con gli stereotipi sul sull'italiano medio e abbiamo visto che effettivamente siamo sempre bloccati in quei meccanismi in cui facciamo fatica a rispettare le regole lo stiamo vedendo anche adesso in quest'anno in questa situazione drammatica facciamo una fatica terribile a rispettare le regole noi italiani come mai diciamo che noi italiani siamo molto creativi se vogliamo metterla con una parola simpatica siamo creativi nel senso che riteniamo di avere sempre una posizione personale su qualsiasi legge su qualsiasi cosa io parlo di mio padre mio padre è una persona fantastica ma ricordo che in certi momenti arrivavamo ad uno stop e lui non si fermava e dicevo ma guarda che c'è uno stop sì sì ma è sbagliato ecco mi faceva morire da ridere perché secondo lui era messa nel posto sbagliato adesso esagerando perché chiaramente era uno che le regole le seguiva però ogni tanto aveva queste uscite ma devo dire che gli italiani sono conosciuti nel mondo per questa creatività un'altra cosa che mi fa ridere che non è negativa ma comunque dimostra l'inventiva dell'uomo sempre in Europa Italia c'è quella scenetta del caffè dove gli stranieri chiedono un caffè e gli italiani chiedono 50 tipi di caffè diverso allora cosa è questo è un difetto o un pregio io credo che sia in certe situazioni sia più un difetto perché ci impedisce di migliorare cioè il famoso furbo quello che in Italia in Italia viene definito il furbetto quello che ha rubato 12 milioni di euro ha beccato il furbetto non è un furbetto è un delinquente scusate allora c'è sempre questa interpretazione italiana che mi piace prendere in giro diciamo nell'animazione in molti film che un po' tocca un tasto debole dell'italiano che è quello di girare intorno alle cose e di dare sempre un'interpretazione personale più intelligente di quella che è l'altra e questo è pericoloso molto pericoloso tediamoci ci sono i furbetti anche all'estero non è che ci sia solo in Italia solo che all'estero li beccano li chiamano con altri nomi qui da noi invece c'è sempre questo vezzeggiativo per tenerli buoni per far capire che c'è qualcosa di buono in questo come se tutto sommato facesse parte della nostra capacità creativa di adattare la nostra capacità creativa esatto ecco io glielo devo chiedere a proposito del caffè visto che l'ha citato ha trovato qualcuno che chiedesse la tazza a parte perché io dopo che l'ho sentito ho cominciato ad ascoltare la gente che chiedeva il caffè al bar prima o poi devo sentire uno che chiede la tazza a parte no no tazza a parte no è stata proprio un'invenzione divertita oltretutto in questo caso la collaborazione è stata con Roby Frattini perché lui ha fatto la colonna sonora ed è un genio in questo tipo di lavoro anche degli effetti sonori e quando abbiamo registrato le voci infatti eravamo io e lui a declamare i vari caffè è stata la sua creatività che ha aggiunto tazza a parte troppo bella geniale io devo dire che non l'ho ancora trovata non l'ho ancora trovata però quello con una frase riesce a dire esattamente chi siamo noi italiani davanti al caffè ecco sul sullo stesso genere c'è invece anche un un bello scontro tra Europa ed America lì in quel caso siamo noi che facciamo più bella figura mentre gli americani c'è anche qui un po' di perbole sulle loro mani ne ho fatto anche uno sulla Germania perché il divertente di questo film come molte cose che nascono sul web è che nessuno ha pagato una lira per questo film è stato visto da milioni 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 di persone e io non ho guadagnato una lira su questo mentre ho avuto molte richieste di realizzare film analoghi se non identici identici no ovviamente cambiavo cambiavo qualcosa però sulla con lo stesso meccanismo mi hanno chiesto altri film che venivano pagati quindi questo è curioso come l'originale che secondo me è quello che ha più valore non viene assolutamente remunerato mentre si vogliono dei copioni dei doppioni e questo è molto curioso per lo meno mi ha colpito perché mi ha fatto capire un po come funzionano certi meccanismi commerciali che sono sbagliati cioè probabilmente limitazione adattata a una situazione piuttosto che un originale perché puntano sul richiamo verso l'originale che ormai fa parte della probabilità pubblica probabilmente è un sarebbe interessante esaminare questa dinamica di mercato effettivamente ma anche della della società attraverso i nuovi media e a tal proposito la capacità del computer di velocizzare il processo di animazione e adesso quei quei filmati sono stati realizzati con flash che al momento non esiste più però ha reso possibile anche per me nel senso anch'io ho lavorato con flash per qualche anno non con lo stesso successo palesemente ma perché la differenza non era nella creazione del quadrato o del cerchio o del suo movimento che appunto era ha demandato al computer ma nell'idea che ci sta dietro quindi levando tutti gli orpelli estetici resta l'idea pura che resta ancora l'unica cosa che conta veramente il messaggio che viene inviato sì io a questo ho sempre creduto cioè penso che tutto il mio cinema e tutto il mio lavoro in generale sia proprio impuntato improntato su avere una buona idea cercare di realizzarla con il minor sforzo possibile cioè adesso vorrei fare una una riflessione europa italia è stato fatto con un cerchio e un rettangolo praticamente i movimenti li ha fatti il computer io ho creato un cerchio un rettangolo e le scenografie io sfido a trovare un film così economico la storia del cinema perché con due disegni ho fatto un film di 6 7 minuti che poi parte che ha avuto successo ma ha funzionato e questo è proprio la dimostrazione di quanto sia importante l'idea il contenuto cioè partiamo da una riflessione da una denominazione che ha dato del cinema d'animazione un bambino un bambino piccolo che io ho copiato piatto piatto è diventato un po il mio simbolo lui ha detto che un disegno è un'idea con intorno una linea io trovo che sia fantastica questo bellissimo è un'idea cioè io comincio a prendere la penna quando devo mettere un qualcosa intorno a un'idea che è già qua dentro come probabilmente ho letto che michelangelo ed altri scultori toglievano semplicemente il marmo dove non serviva ecco il concetto è quel figura era già dentro va soltanto tolto quello lui la vedeva già la figura doveva solo togliere quello che era inutile e io faccio il contrario cioè ho un'idea devo metterci intorno una linea e secondo me più la linea è povera essenziale più colpisce più incisiva e poi un'altra osservazione più dura nel tempo perché più io arricchisco il disegno più lo connoto e gli do una delle specifiche che lo caratterizzano nel suo mondo quando io faccio due righe questo è il simbolo non è un disegno è un simbolo e il simbolo funziona sempre in quanto tale noi siamo noi che aggiungiamo al simbolo quello che vogliamo io sono convinto che una persona vedendo un simbolo lo arricchisce con la sua fantasia con i suoi ricordi quindi diventa anche più creativo lo spettatore quindi coinvolge lo coinvolge quando io creo un disegno bello perfetto completo faccio un'opera d'arte ma ho dato tutto lo spettatore prende quello lo incamera e magari è un capolavoro in assoluto quindi c'è spazio per tutto io preferisco essere più anche perché non sono così abile nel disegno non ho mai fatto scuole di disegno e quindi mi attacco all'idea che considero molto importante ecco dal proposito del disegno di facile fruizione e semplice mi vengono in mente gli oltre 100 corti realizzati insieme a Piero Angela io ho una certa età che dopo dico per ragioni di cronaca e sono cresciuto guardando non super quark ma quark al pomeriggio quindi la premissima edizione e se Piero Angela aveva il compito di trasmettere le informazioni scientifiche con le parole invece i corti aiutavano con l'immagine e io non aspettavo altro che vedere i corti scientifici sono entrati nella casa di tutti gli italiani con un linguaggio chiarissimo e semplicissimo da capire questo mi fa molto piacere perché trasmettevano messaggi importanti e poi ho avuto l'onore di lavorare con Piero Angela che stimo moltissimo lo considero un secondo padre voglio dire nel senso che sono cresciuto anche con i suoi libri non so se tu sai come è nata la nostra collaborazione io leggevo i suoi libri e leggendoli vedevo dei film perché lui scrive con un linguaggio visivo io vedevo dei film e quindi ho preso carta e penna ho scritto ho detto caro Piero Angela io vedo dei film non potremmo fare un film da un suo libro e così è nata l'incontro lui mi ha detto mi piacerebbe moltissimo ma fare un film da un libro è una cosa piuttosto difficile e dopo un mese mi ha chiamato mi ha detto mi ha dato una rubrica che si chiama quark e io vorrei mettere in questo dei disegni animati e la prova è nata da un articolo che aveva pubblicato quel giorno su Repubblica e che si intitolava l'energia cioè era dimostrava come un filosofo consumi un sacco di energia senza produrre nulla perché il filosofo produce idee non produce nulla ecco da questo da questo articolo io ho realizzato uno storyboard glielo ho mandato lui ha detto perfetto ed è nata così la nostra collaborazione quindi sono stato felice perché era un po il mio sogno quello di visualizzare ciò che scriveva Piero Angela perché è nato proprio da un desiderio istintivo dai suoi libri ed è una cosa che rimarrà assolutamente almeno in tutti coloro che come me hanno hanno avuto modo di apprezzarli anzi mi spiace che non continui questa produzione all'infinito perché quark c'è ancora la fin fine in realtà qua c'è sì però non abbiamo un po smesso per motivi di di budget cioè il disegno animato è molto molto caro certo poi abbiamo continuato in qualche modo perché ultimamente ne abbiamo fatti altri con lo studio più semplici qualche risparmio c'è però diciamo che questo questo gruppo di film di un certo peso è terminato con quark quindi non ne abbiamo più fatti altri va bene allora a proposito di certo peso adesso devo dire quella cosa che anticipavo prima 1976 è una data che faccio fatica a dimenticare perché è quella in cui sono nato quindi 44 anni fa usciva un lungometraggio che si chiama Allegro non troppo con Maurizio Nichetti un regista che io adoro sempre adorato ed era la risposta italiana a fantasia ora io chiaramente sono cresciuto anche con i classici disney tra cui fantasia per cui un giorno mia madre mi porta a questo questo film animato italiano che mi sconvolge completamente soprattutto in due punti il bolero di ravel che ho trovato eccezionale su cui poi devo farlo una domanda ma prima voglio parlare del waltzer triste di sibelius con questo povero gatto che vaga nei ricordi perduti io all'epoca avevo otto anni sicuramente non era adatto alla mia età e io ho tanta paura a farlo vedere le mie figlie quel film perché è un capolavoro totale ma ho paura di scioccarle cosa faccio io lo faccio vedere o no allora sì mi scrivono in tanti mi dicono che è una pugnalata quel film perché soffrono piangono io sono il primo a piangere intendiamoci quindi posso capirli perfettamente purtroppo lì c'è stata una fusione di due cose la musica che io reputo eccezionale che è tristissima come dice il titolo waltzer triste e una un appunto che aveva scritto proprio sibelius dove aveva scritto che lui per questa questo brano aveva visto la sua soffitta con un baule in cui c'erano i vestiti della moglie morta il baule si apre escono i vestiti e danzano nell'aria questa era un'immagine che lui aveva dato che era già sufficientemente tragica e triste trasformandola e alleggerendola come pensavo io in realtà non l'ho alleggerita abbiamo pensato prima avevo pensato a un gatto in una casa solo in una casa e questo era il gatto di mia moglie il gatto c'è esiste e questa storia è vera non l'ho inventata cioè quando hanno demolito la villa in cui viveva mia moglie con i genitori e undici fratelli perché erano in undici il gatto in queste macerie non poteva continuare a vivere ovviamente quindi l'abbiamo preso l'abbiamo portato via in un cesto chiuso l'abbiamo portato a casa mia che dista tre o quattro chilometri è rimasto da noi una settimana e poi è scomparso eravamo disperati abbiamo cercato di capire dove potesse essere andato mi è venuto un'idea dico sta a vedere che il gatto con questi incredibili sensi che hanno gli animali ha ritrovato la strada ed è tornato a casa siamo andati là ed era là quindi siamo andati avanti ad andare tutte le sere a sfamarlo gli portavamo il cibo nelle macerie finché è scomparso ecco quindi la storia è vera è tristissima e anche peggio adesso sapendo che è vera è anche peggio è anche peggio ecco perché mia moglie non può vederlo il film non può assolutamente vederlo io chiaramente soffro come tutti gli altri e l'unica modifica che abbiamo fatto è stata quella di trasformare la casa in un condominio cioè per dargli maggiore globalità cioè per renderlo un po più non una cosa privata ma una cosa un po più però sostanzialmente una storia vera quindi io non ne ho colpa ho raccontato una cosa che è successa sicuramente ho trovato ho avuto la fortuna di trovare un artista come giorgio valentini che ha disegnato questo gatto che è meraviglioso e un animatore come giovanni ferrari che aveva una passione un amore per i gatti da riuscire a cogliere questi movimenti questi gesti questi leccamenti questi queste piccole particolari che lo rendono vivo non sono molto d'accordo sugli interventi del dalvero cioè i ricordi i ricordi sono veramente so come dire cine amatoriali nel senso che in quelle persone che si vede c'è il mio studio ci sono le segretarie ci sono io ci sono i miei nipoti c'è dentro tutti noi quindi l'abbiamo fatto proprio in famiglia e se uno conosce le persone le riconosce all'interno forse questo doveva essere più magico e il 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 dalvero un pochino mi disturba quando lo vedo avrei preferito qualcosa di più fantastico le 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 rende un po troppo concrete non lo so c'è qualcosa che non non mi accontenta del tutto però funziona devo dire che funziona senta allora invece per quanto riguarda il bolero di ravelle c'è una cosa che io mi chiedo appunto da quando avevo otto anni che è la prima la prima volta che l'ho visto perché nasce tutto dalla coca cola c'è un motivo no c'era una bottiglia di coca cola in studio e quando stava pensando ci ho detto ma dai facciamolo partita la bottiglia di coca cola non mi ricordo neanche come sia nata e la cosa curiosa è che quando abbiamo iniziato abbiamo preso questa bottiglia con un po di coca cola l'abbiamo messa fuori dalla finestra e l'abbiamo lasciata per tutta la durata della produzione del film quindi due anni per vedere se usciva qualcosa non è uscito non è uscito niente non è uscito niente alla fine invece in questa sequenza bellissima emerge tutta un'evoluzione in cima alla piramide c'è ancora una volta l'uomo che però in realtà è uno scimmione per cui torniamo ancora sulla piccolezza umana che alla fine siamo dei grossi delle grosse scimmie nude dei grossi animali mossi più dal distinto che da uno dei libri che mi ha entusiasmato e mi ha influenzato da piccolo era la scimmia nuda di desmond morris esattamente non a caso è citato la scimmia nuda allora facciamo di nuovo un passo avanti e torniamo ai giorni nostri a questo punto quindi io ho avuto modo di vedere un bellissimo corto che si chiama il bello della differenza anche qua semplicissimo quadrati e cerchi e in un mondo in cui tutti quanti siamo spinti invogliati o costretti a uniformarci alla fine chi è tondo a quella marcia in più per per emergere insomma abbiamo visto che c'è questo tema dell'inclusività che mi sembra che le sia piuttosto a cuore sì è un tema non era un tema facile perché raccontare l'importanza della differenza in un minuto attenzione mi era stato imposto un minuto di tempo e quindi ho dovuto un po rampicarmi sui vetri per trovare una soluzione questa dei quadrati e dei cerchi non tanto per la loro forma ma per il loro modo di procedere mi hanno dato l'idea per far capire che essere diversi non vuol dire assolutamente essere inferiori ma può essere la possibilità di aprire nuove strade quindi sono convinto che sia una una cosa importante da tenere presente nella nostra vita cioè la differenza è una possibilità è qualcosa in più che ci viene offerta e coglierla nel modo giusto può aiutare tantissimo quindi la differenza non è una cosa negativa è una cosa positiva va colta nelle nella giusta dimensione l'evoluzione l'evoluzione è un adattamento al cambiamento allora da quel che ricordo e che avevo letto cioè se se tanti tanti animali hanno le gambe corte a un certo punto ne nasce uno che ha le gambe lunghe viene visto come un mostro poi arriva una nevicata terribile tutti gli altri muoiono e quello con le gambe lunghe si salva ecco detto in tre parole questa è la differenza ed è l'evoluzione assolutamente e a tal proposito quindi c'è in questo periodo una sensibilità molto spiccata dal punto di vista del della fruizione delle arti di tutte quante dal cinema in poi sulla sul politically correct che a mio avviso però ha sfondato la parete ed è arrivata a diventare una palla al piede cosa ne pensa assolutamente d'accordo cioè io ragionavo pochi giorni fa non ricordo con chi sul fatto che se tornassimo indietro di 30 anni con questa mentalità e con questo politically correct i tre quarti dei film e dei libri delle produzioni di un tempo non sarebbero nate cioè io credo che a volte proprio nella nel rompere un tabù nel dire qualcosa di sbagliato nell'affrontare un argomento ostico si possono trovare degli 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 spunti intelligentissimi che danno altri abito ad altre cose il fatto di essere bloccati secondo me di essere così controllati su ogni mossa che si fa reputo che ci porti a una uniformità pericolosa cioè diventiamo un po tutti uguali faccio un esempio se entriamo in un supermarket o in un ospedale e chiediamo a uno in in che città ci troviamo potremmo essere a kabul come new york o come non so io a montreal stiamo diventando uguali in troppe cose questo nel da un punto di vista estetico diciamo ma nel nella mente ancora più pericoloso se incomincio a dire questo non posso farlo questo non posso toccarlo quest'argomento è tabù ci si taglia le ali bisogna essere un po libri l'arte deve esprimersi ovviamente senza offendere o senza distruggere nulla ma semplicemente avendo la libertà di toccare qualsiasi argomento io credo che oggi ci sia un sia pericoloso ci stiamo stiamo veramente abbassando il livello di creatività perché ci sono troppi paletti da rispettare per fortuna restano i corti indipendenti in cui invece c'è ancora un po di valvola di sfogo volevo dire che il corto resta attualmente forse l'unico l'unico mezzo in cui si può ancora dire di tutto e fare di tutto e si può sbagliare ma può uscire anche il colpo di genio bisogna bisogna lasciare la libertà che inizia assolutamente faccio un'ultima domanda e poi la lascio la lascio libero lei ha ricevuto centinaia di premi dall'orso d'oro al festival di berlino nel 90 nel 91 a una laurea non riscausa nel 2007 si ricordo bene non mi ricordo comunque si può essere le stanno ancora in casa c'è ancora spazio in casa perché con tutta la lista di premi capito no i premi no un po li ho distribuiti in ufficio un po non so più dove siano no quello è vero ma il premio non ha importanza è il simbolo cioè il sapere che si è sia guadagnato sia guadagnato qualcosa con un prodotto che ha parlato alla gente ha raccontato qualcosa è questo che mi interessa il premio in se stesso non non mi interessa come pareti non ho più un buco ma non per i premi ma anche per il regale di amici quadri insomma ne ho di tutti colori non sono importanti premi lo sono ripeto per il per il simbolo nel senso che se a un certo punto io la nomination all'orca oscar è chiaro che quando me l'ha detto ma ha fatto grande impressione e sono rimasto molto contento però sono pochi premi di questo livello che colpiscono ma non li ho mai ritenuti molto importanti anche i premi alla carriera insomma io non so se il premio alla carriera come dice nicchetti no che è citato prima e dice sì ma questo è proprio un epitafio no è come uno che avesse finito di lavorare io ne ho ricevuti non so almeno 15 dico allora sono morto 15 volte continuano a darmi il premio alla carriera comunque fa piacere significa che riconoscono un lavoro fatto dai ha avuto anche un riconoscimento dalla pixar a san francisco c'è stata per due anni una retrospettiva sul suo lavoro di animazione ma hanno fatto proprio nella disney nel museo della disney hanno fatto un'esposizione dei miei lavori e devo dire mi ha fatto molto piacere insomma io ecco primo ho detto che piero angelo è un po il mio papà il secondo è walt disney perché io sono nato con walt disney sono cresciuto i fumetti li ho tutti li conosco memoria da walt disney quindi essere diciamo in contatto con queste due persone con questi due simboli che per me sono importantissimi è chiaro che lo trovo più importante di qualsiasi premio e il mio augurio che continui ancora per molto tempo a regalarci altre produzioni perché speriamo non facciamo previsioni dai non facciamo previsioni io finché riesco a lavorare a fare le cose in cui credo sono contento sono felice e anche e anche noi che ne fruiamo io la ringrazio tantissimo della sua disponibilità di questa chiacchierata e se vuole fare un saluto niente un saluto a tutti tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi ogni quando parlo sono molto noioso quindi ogni volta che mi risento dico ma come si fa stare a sentire uno così noioso comunque se avete avuto la pazienza d'ascoltarmi vi ringrazio e un caro saluto e niente auguri soprattutto per il nostro futuro che è abbastanza nebuloso ciao ciao a tutti